Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosa è ASMR. Come avrei letto dal disolo, questa sera ho una collaborazione molto molto speciale, speziata, con il canale Nika Tokyo Perri e CMR. Ora mostriamo i nostri massi di tarocchi, io premettendo che, ma chi mi segue già lo sa, non li leggo, non li so leggere. E allora le persone diranno, ma perché i due massi? Perché mi sono stati entrambi regalati, quindi non datemi della buzzer. Non ho le cose per moda, ma mi sono stati regalati e hanno dei disegni stupendi, quindi degli artwork fantastici. Quindi me li tengo ben stretti perché mi piacciono, però non li so utilizzare. Quindi no, non chiedermi una lettura perché non te la so fare, però io so leggere le rune che con me funzionano molto bene. Se mi segui ce lo sai, comunque questi mi sono stati regalati da una persona che sa leggerli e questi mi sono stati regalati da la mia anima gemella, che è Marco De Rosa, per chi non lo sapesse. E questi sono tarocchi universali fantasy e questi tarocchi dei famigli, molto da strega questi. Andiamo prima a vedere questi qui che sono i miei preferiti senza far sapere nessuno, ok? Allora, guarda che bei disegni, i diamanti, la forza, sembrano carte magic da quanto sono belle. Io odoro le carte magic, hanno dei disegni fantastici, l'imperatrice, il matto, il bagatto, la papessa, questi unchi non sono tanto bravi per me. L'imperatore, sembra un cavaliere dello zodiaco, il papa, il carro, l'eremita, la ruota, la giustizia, l'appeso, la morte, c'è un riflesso strano, spero che tu riesca a vederle bene. Poi, la temperanza, mi sfuggono via, il diavolo, guarda che bello. La torre, la torre, le stelle, la luna, il sole. Il giudizio, il mondo, asso di coppe. Coppe, 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 due di coppe. Allora, asso di coppe, due di coppe. Tre di coppe, di coppe o coppe, come si dice? Dico coppe, quattro coppe, coppe, coppe. Che bello. Cinque coppe. Sei coppe. Sette coppe. Otto coppe. Dove va? Giro del sole. Nove coppe. Dieci. Poi abbiamo Fante di coppe. Poi abbiamo il cavaliere di coppe. Che è un centauro picchissimo. Regina di coppe. Re di coppe. Asso di denari. Due di denari. Tre di denari. Quattro di denari. Cinque di denari. Sei di denari. Sette di denari. Stai addormentata. Otto di denari. Nove di denari. Guardi qua che bella. Dieci denari. Poi c'è il Fante di denari. C'è il cavaliere di denari. Cavaliere di denari. La regina di denari. La regina di denari. Due di denari. Due di bastoni. Tre di bastoni. Quattro di bastoni. Cinque di bastoni. Ve lo che bello. Sei di bastoni. sette di bastoni bellissimo otto di bastoni nove dieci fante di bastoni cavaliere di bastoni guarda che bello regina di bastoni re di bastoni asso di spade due di spade drago tre di spade quattro cinque sei di spade sette otto nove dieci di spade bellissimo il fante di spade stupendo cavaliere di spade la regina di spade meravigliosa e il re di spade bellissimo è vero cosa ne pensi fa meno sapere nei commenti e scrivimi se anche tu hai dei tarocchi e cole mazzo se l'hai comprato o se ti è stato regalato il retro è così non l'ho fatto vedere adesso andiamo a vedere quelli dei famigli che confessioni così non l'ho mostrato l'altra l'altra era così ok allora io il retro è così guarda com'è bello lisa parker c'è scritto ok l'illustratrice di queste carte ok allora devool non c'è in italiano il mago la papissa la papissa è con questo gattino poi c'è l'imperatrice gli amanti con che potete traslupo ah guarda questo che bello l'imperatore mi scivolano un sacco l'unicorno sono un po' da sabrina da strega queste secondo me rimite da quanto sono i pezzi secondo me si sono un po' anni 90 un po' sabrina vita da strega forse più ci sono tutti questi gatti neri come Salem i lupi i corvi che bello questo 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 è sia bianco che nero l'amore a te l'ostil di the star the moon the sun questo gatto che faccia anche i colori guarda che belli questo verde scuro questo verde foresta del mondo the world invece qua c'è tre di pentacoli quattro cinque sei sette otto nove dieci questo è il cavaliere questo è il re asso di coppe col cuffetto quattro cinque sei sette otto nove dieci dieci che 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 regino di coppe regino di coppe re di coppe asso di spade due tre 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 quattro quattro cinque sei 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 sette sette otto nove nove dieci dieci corvi belli bellissime bellissimi bellissimi regine sidi spade re di spade regine sidi il bastone wow l'originale di bastoni è un gatto bianco il re è un gatto nero è rimasto il diavolo dentro separatamente non so per quale motivo forse perché è la carta più bella di tutte vai che bello con questa carta ti invito a andare sul canale di Nika trovi il link del suo video nell'info box e poi facci sapere quale massa ti piaciuto di più o no? non è vero perché se non mi puoi dire se ce la scegliere si no io voglio saperlo e niente lasciami un like iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanella e seguimi su tutti i social mi raccomando creatura io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie grazie grazie